Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arone e Giannina e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano le deliziose noci ricoperte di cioccolato. Queste delizi sono veramente facilissime e velocissime da preparare. Preparandole non dovrete andare al supermercato e spendere una fortuna per comprarle perché con pochi ingredienti riuscirete a farle tranquillamente anche voi e farete una bella figura per un bel pensierino di Natale. Oggi andiamo a vedere insieme come le si preparano. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 300 g di noci e 300 g di cioccolato fondente. Per prima cosa tagliamo il nostro cioccolato brusolanamente perché poi lo metteremo a sciogliere a bagnomaria. Mentre il nostro cioccolato si sta sciogliendo ci occupiamo delle noci e non ci rimane altro che versarle in una padella calda, spadellarle per bene e lasciarle tostare per circa 5 minuti. Ecco, il nostro cioccolato si è fuso e le nostre noci sono già ben tostate. Bene, ora siamo arrivati al momento dell'assemblaggio e non ci rimane altro che aggiungere le nostre noci al cioccolato e mescoliamo per bene finché tutte le noci non saranno ricoperte all'operfezione di cioccolato. Poi, aiutandoci con due cucchiai, prendiamo un pochino di noci e le trasferiamo su un foglio di carta da forno. E fatto ciò, le mettiamo in freezer finché si solidificheranno, cioè saranno belle e dure. Per circa un quarto d'ora o venti minuti. Ma guardate come sono venute bene le nostre noci ricoperte di cioccolato! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio. Ma prima di procedere vorrei farvi vedere una bellissima idea regalo per Natale. Come potete vedere abbiamo messo alcune delle nostre noci ricoperte di cioccolato dentro un sacchettino e l'abbiamo abbellito con alcune decorazioni natalizie. E con questo ne vi assicuriamo che vi siete salvati un regalo di Natale. Ma tornando a noi, io non vedo l'ora di assaggiare queste noci e adesso lo faccio! Ragazzi! Sono la fine del mondo! Ci sono queste noci croccanti, perché le abbiamo già tostate in precedenza. Dopo sono ricoperte da questo così goloso cioccolato avvolgente che completa il tutto. Insomma ragazzi, veramente sono dei dolcetti strepitosi che sono adattissimi per Natale! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi vi aspettiamo numerosissimi nella prossima puntata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella!